da merca uno comunque allora i primi dieci colpi si tengono ma poi i primi dieci questa partita me la salvo dopo i primi dieci tra destra e sinistra grazie fede ma ho fatto una triple veramente bellissima col bigel veramente figa tg hai tratto due si si sono tratto due anche con questo grazie ragazzi per la compagnia buona buona user disconnected from your channel no no C'è qualcuno? Cosa non c'è nessuno? Chi c'è? Chi c'è? Cambio caricatore Non lo so Dai ce n'ho qua Cambio caricatore Cosa non c'è nessuno? 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 Interrogo Interrogato 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 ok stanzino questo aspetta aspetta posso dropparlo tenso marato no vabbè c'è youtube guarda non ti prego prossima volta bot non con me non so dove sono bella questa tripla dg guarda un 160 l'ho fatto mi aspettavo già dc on the track boy ok 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 Lenzio Visto, ce l'ha bisogno di me? No E' sotto sotto Ok E' hitato E' sotto E' sotto E' sotto E' sotto è diffuso da me l'ultimo nemico rimasto non vengono mi guarda e chiamare la pezzi domani è rossa ma bravi rompi lo scudo sono morto te lo dico eh ah doc nell'angolo qua botta in arrivo cambio caricatore ma ma è illegale sto cazzo di loll non mi piace pusciare ragazzi quadrupla non mi piace cambio caricatore non è fatta fatta mamma mia grazie grazie grazie